La difesa dai barbari invasori. Corri, c'è una barca in mezzo al mare, ha molta gente nascosta nella stiva, è pericolosamente fatica a galleggiare. C'è chi è uscito con le barche perché i confini della patria andavano salvati dall'invasione di quei barbari stranieri, forse perché era scritto sopra un foglio, ma non ha potuto, il mare non ha voluto. Si alzarono le onde costruendo un muro, qualcuno ordinò la ritirata e le barche, anche se con fatica, tornarono alla base. Corri, corri, vai a salvar la povera gente che arriva scappando dalla morte in casa e qui da noi sta rischiando di annegare. Lo diceva la coscienza, ma non il foglio, quello su cui era scritto cosa fare per salvare la patria dai terribili barbari invasori. Forse qualcun altro poteva farcela, però non è uscito, il foglio forse non lo prevedeva ed è mancato il provvidenziale salvamento. Però una telefonata a qualche pescatore è stata fatta, bisognava sapere se i confini della patria erano salvi o con mitra e colpo in canna la spiaggia esplorare bisognava. La triste risposta è stata che tanti corpi di adulti e di bambini galleggiavano nell'acqua. Decine e decine di persone sono morte, non si sa perché, si sa che nessuno li ha aiutati. Qualcuno opportunamente si è scusato con la sua presenza davanti a quelle bare, ma c'è chi per imbarazzo non oso passare. Colpa di un foglio su cui andrebbe scritto che la persona va salvata sempre in mare, ad ogni costo, perché rischia di morire.